Oggi domenica quando andiamo a messa ascoltiamo diverse letture che sono organizzate secondo un criterio, non sono messe a caso. Un criterio che potrebbe sembrarci anche un po' strano perché ci potremmo domandare ma perché semplicemente non iniziamo a leggere un libro biblico dall'inizio alla fine così capisco bene e la volta dopo quando abbiamo finito quel libro iniziamo con un altro. Nelle domeniche di Pasqua la prima lettura che ascoltiamo è sempre presa dagli atti degli apostoli che è una delle due grandi opere dell'evangelista Luca. Luca scrive un Vangelo e scrive gli atti degli apostoli. Spero di non scandalizzare nessun esperto di Bibbia, faccio un esempio banale, è come il primo e il secondo tempo, il primo piatto e il secondo piatto di un nostro pranzo, scusate l'esempio banale, ma è interessante. L'evangelista Luca ci racconta gli atti, cioè le cose che hanno fatto gli apostoli, cioè ci dà una fotografia della Chiesa nascente, ci fa vedere i primi passi della Chiesa delle Origini. Perché lo fa? Lo fa perché ha un'idea molto chiara in testa. Qual è quest'idea? È che se tu guardi le caratteristiche della Chiesa delle Origini, puoi capire il tuo modo di essere Chiesa. Questo che vale per il Libro degli Atti degli Apostoli vale in generale per gli episodi che la Chiesa che la Chiesa ci consegna nei Vangeli della Risurrezione. Guardando cosa ha fatto Gesù Risorto con i Suoi Apostoli, guardando le dinamiche di credulità, di incredulità, di fede, di dubbio dei discepoli di Gesù che si sono ritrovati di fronte a questo grande enigma, proviamo a metterci nei loro panni. Lo hanno visto crocifisso, lo hanno tolto dalla croce, hanno seguito da lontano per paura e hanno visto che è stato deposto, morto tra le braccia di Maria e poi lo hanno visto ritornato dalla morte. Che grande cosa questo! Ecco, tutto questo che ha creato davvero un guazzabuglio nel loro cuore, tutto questo che ha interrogato le loro coscienze, ha creato in loro una dinamica di fede, una dinamica di sequela. Ecco, guardando come hanno reagito, che cosa hanno vissuto gli Apostoli, che cosa hanno vissuto i testimoni della Risurrezione, che cosa il Risorto ha detto loro, noi troviamo le tracce per capire come noi oggi possiamo essere i discepoli di Gesù. Perché in gioco, cari amici, c'è esattamente questo. Che cosa dice a noi la Risurrezione? Esattamente questo, come questo evento della vita di Gesù ci interroga sul nostro modo di essere discepoli oggi. Mettiamoci allora in ascolto della pagina di Vangelo e proviamo a vedere che cosa suscita in noi, in che cosa ci interroga, che cosa ci chiede per la nostra vita. E quindi do la parola a Paolo e alla proclamazione della pagina evangelica di questa domenica. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro, perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostro loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano piedi di stupore, disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro. Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Pace a voi non è un semplice augurio di serenità. Non è solo la pace qualcosa di cui sentiamo aver bisogno in questo tempo segnato dalla guerra. Pace a voi è l'augurio pasquale del risorto, il saluto pasquale del risorto ai suoi discepoli. Ecco perché quando in cattedrale il vescovo dalla cattedra, che è come il punto elevato sulla vigna da cui il pastore guarda il suo gregge, ecco che il vescovo a inizio di ogni celebrazione ci saluta esattamente con queste parole. La pace del Signore sia con voi, perché quando andiamo a messa è il risorto che è in mezzo a noi. E queste sono le parole che si sono sentiti dire i discepoli nell'incontro successivo al brano di Emmaus. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è un Vangelo che, secondo la narrazione di Luca, taglia il brano di Emmaus e ci fa entrare nel vivo della scena dopo che i discepoli avevano incontrato il risorto, avevano compiuto con lui la strada verso Emmaus. Lo avevano sentito svelare loro il senso delle scritture, lo avevano visto spezzare il pane e lo avevano riconosciuto. E questo cosa ha provocato in loro? Lo abbiamo appena sentito. Questo ha provocato che i discepoli ritornano da Emmaus, fanno il cammino contrario, ritornano per annunciare che sì davvero lo avevano incontrato, che sì davvero lo avevano riconosciuto. E così portano questo annuncio agli undici. E Gesù risorto cosa fa? Si ripresenta nuovamente e che cosa promette? Promette il dono dello spirito. Promette loro, cioè, di essere sempre presente in mezzo a loro. Il tempo pasquale che stiamo vivendo è il tempo della Chiesa, è il tempo dello spirito, è il tempo in cui il risorto si manifesta. Come si manifesta il risorto ancora oggi? attraverso quei gesti. Quel radunare gli apostoli, che siamo noi. Quel radunare il suo gregge, attraverso una convocazione. E poi ancora, attraverso l'ascolto delle sue parole. E poi ancora, attraverso la condivisione del pane spezzato. E poi ancora, attraverso il suo spirito. Quando abbiamo ricevuto lo spirito del risorto? Lo abbiamo ricevuto nei sacramenti della Pasqua, nel battesimo, nella confermazione. Nei sacramenti che hanno fatto per noi, per sempre, dei cristiani. Nei sacramenti che fanno sì che noi possiamo essere popolo del risorto. Allora, che cosa vuol dire oggi vivere secondo la risurrezione? Vuol dire innanzitutto essere convinti che il risorto è vivo oggi. Questo vuol dire che Gesù è risorto. Non che è un fantasma. Credevano che fosse un fantasma. No. Ma che si manifesta alla sua Chiesa. Che noi lo possiamo incontrare. Che noi possiamo portare la sua parola e il suo annuncio a tutti. La nostra cattedrale è un vero e proprio monumento alla risurrezione del Signore. Non solo perché, penso che avremo modo di vederlo nelle immagini, non solo perché vicino all'altare splende il cero pasquale che abbiamo acceso nella grande notte di Pasqua, che è il grande segno della risurrezione del Signore. Ma perché anche chi ha pensato dal punto di vista artistico la nostra cattedrale, l'ha pensata anche dal punto di vista teologico. E allora nell'abside trova spazio il crocifisso, sopra il crocifisso il risorto. E poi cosa bisogna fare? Bisogna passare dall'altra parte della cattedrale l'assunta e sotto l'assunta il tabernacolo. Perché sapete che per antica tradizione nelle Chiese cattedrali il tabernacolo era conservato non nell'altare maggiore, ma in un altare laterale. Allora è chiara la visione teologica che abbiamo di fronte e che è un vero e proprio cammino. Il Cristo è il crocifisso, con la sua morte in croce ci dà la vita, ma lui è il risorto, colui che ha vinto la morte perché il Padre l'ha risuscitato. Dall'altra parte, Maria è la prima dei corrisorti. E noi siamo associati a questo destino di risurrezione perché noi siamo chiamati a partecipare della gloria di Cristo che è anche la gloria della Madre. Ma come facciamo a partecipare di questa gloria? Come possiamo avere la possibilità di fare questa esperienza di gloria, di vita eterna attraverso l'Eucarestia. L'Eucarestia che ci è data come pane del cammino e come viatico della vita eterna. Ecco perché i discepoli di Emmaus hanno riconosciuto il Signore nello spezzare il pane, sono andati a dirlo a tutti, hanno ricevuto da Lui lo Spirito, lo hanno annunciato al mondo, così come noi attraverso l'Eucarestia viviamo da discepoli qui su questa terra per incontrarlo poi un giorno in cielo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.